Sul Gran Sasso si pensa alla prossima stagione invernale, anche questa condizionata dal Covid, ma l'urgenza ora è pure legata alle strutture, in particolare il centro turistico, tenta di dare in affidamento l'hotel Cristallo, le fontari e l'ostello in quota, pubblicando gli avvisi che hanno una novità, un periodo di tempo più lungo per chi prende le strutture in gestione e ciò è nove anni. I gestori potranno fare delle migliorie da scalcolare sui canoni, migliorie necessarie, ma l'urgenza riguarda soprattutto l'ostello. La gestione attuale non ha riconfermato, è fondamentale perché è l'unico rifugio in quota dal momento che l'albergo di Campo Imperatore, che ospitò Mussolini, è nelle condizioni che tutti conoscono, ma che potrebbe vedere l'apertura del cantiere nella prossima primavera. La struttura più corposa è l'hotel Cristallo, che ha avuto anche degli adeguamenti nel tempo. Nel precedente bandolo la gara andò deserta. Se tutto filerà liscio, il Gran Sasso potrà puntare su queste strutture essenziali per dare ai visitatori dei servizi. Chiaramente abbiamo richiesto in questo bando la necessità di un progetto di rilancio e di sistemazione che verrà in ogni caso ricompensato togliendolo dall'importo dell'affitto, con certe condizioni, tutto coordinato. Speriamo che ci siano delle... anzi, richieste sembra che ci siano. Speriamo che vada una conclusione. Dato che il tempo è veloce, quindi dentro il 30 settembre apriremo le buste. Qui diciamo sono 15 giorni solidi, perché c'è l'urgenza di... in particolare per l'ostello che a fine settembre lo lascia il gestore, quindi dobbiamo necessariamente riavere, perché l'ostello è determinante per la gestione della stazione. Per la prossima stagione si spera di poter respirare e poter lavorare, Covid a parte, auspicando innanzitutto abbondanti nevicate, come lo scorso anno, quando però la pandemia ha costretto ad avere impianti chiusi. Gli auspici. Noi viviamo di speranza. Prima di tutto speriamo che nevichi. L'altro anno la neve c'era e la stazione è chiusa. E poi speriamo che non ci siano problemi con il Covid. Però spero ardentemente di no. Speriamo che vada bene, insomma. Intanto, per l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, si prefigura una riconferma. La delibera già c'è, manca la ratifica. La delibera di riconferma c'è, però per l'ufficialità bisogna aspettare l'assemblea dei soci.